Allora, lei è l'infermiera Alessandra del reparto di pediatria. Noi siamo qui, ad Adobare Reparto, perché? Perché era abbastanza triste come reparto e comunque bisognava dare un tocco di allegria e di luce. E tu che hai fatto? Io ti ho contattato su Messenger e ti ho chiesto se potevi aiutarci per migliorare questo reparto e per dare una gioia anche ai bambi. Ciao! Guardi che... sei pronta? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.